È ufficiale, non è un titolo clickbait, sono ufficialmente passato ad Ableton abbandonando FL Studio. Nel lontano 2011-2012 per la prima volta mi affacciavo al mondo della produzione e scaricavo FL Studio. Fino circa al 2016 dove ho cancellato FL Studio perché mi accorgevo che mi mancavano un po' di basi anche di teoria musicale per poter produrre. Mi sono concentrato poi solo sulla parte DJ fino al 2018 quando ho acquistato il mio primo Mac e avevo voglia di riprendere in mano la parte produzione. Quando acquistai però il mio primo Mac nel 2018 non credo ci fosse ancora FL Studio in versione definitiva per Mac. Forse c'era ancora soltanto in versione beta o comunque era appena uscita la versione non beta. Era ancora instabile, era molto differente la versione tra Mac e Windows. Quindi non ho neanche pensato per un istante di installare FL Studio ma ho voluto sperimentare qualcosa di nuovo. E visto che avevo appena acquistato un Mac volevo provare un'esclusiva per Mac. Così ho acquistato Logic. Da quel momento Logic mi accompagnò fino alla quarantena diciamo. All'interno di quei due anni ripresi in mano la produzione con anche un po' di consapevolezza in più. Sono riuscito a tirar fuori anche qualcosa di carino secondo me in quegli anni. Ad esempio il mio bootleg di Michente che avevo pubblicato anche qua su YouTube. Fino al 2020 questo perché nel 2020, preso un po' dalla noia diciamo della quarantena un po' come tutti, ho riscoperto FL Studio, ho scoperto che ormai era abbastanza stabile anche su Mac OS e quindi in un'ora dei vecchi tempi ho ripreso in mano FL Studio. Da quel momento in poi c'è stato soltanto tanto amore per FL Studio. Tante cose che avevo in Logic sicuramente positive di Logic, tanti pro rispetto anche a FL Studio. Allo stesso tempo però sentivo diverse mancanze insomma degli anni che avevo passato in precedenza appunto con FL Studio. Cos'è successo? Oggi siamo qui per parlare del fatto che sono passato ad Ableton e appunto abbandonato FL Studio nonostante questo grande amore che ho avuto per il programma. Bene, di per sé non è successo niente con FL Studio. Semplicemente un po' per voci, un po' per curiosità come avevo fatto con Logic nel 2018, decisi un attimo di capire come funzionava Ableton. Un software che avevo sempre un po' snobbato per l'interfaccia grafica, che è tuttora un po' snobbo per l'interfaccia grafica. Però insomma ero incuriosito da Ableton, mi accorgevo che effettivamente tanti producer che mi interessavano dal punto di vista del sound utilizzavano Ableton e quindi ho deciso insomma di dare un'opportunità anche ad Ableton. Quindi ho iniziato a capire come funzionava un attimo il programma. L'anno scorso a settembre 2022 sono stato a Ibiza, come avrete visto qua sul canale. Ho seguito il corso di Ibiza Talents con Francesco e niente, Francesco mi ha fatto mettere ancora un po' più in testa il pallino di passare ad Ableton. Ci ha fatto vedere un po' Ableton, ci ha spiegato diverse funzioni di Ableton e in quel momento ho preso la palla al balzo. Ho capito che se volevo provare a passare ad Ableton o comunque dargli una chance, era il momento giusto insomma da fare questo tentativo. Non è stato assolutamente facile, sono andato avanti diversi mesi a utilizzare FL per le idee creative e poi sforzarmi di creare qualcosa in Ableton. Però era sempre una forzatura di quello che avrei fatto comodamente con FL, però era anche l'unico modo per cercare di forzare me stesso a essere creativo anche su Ableton. Bene, alla fine ce l'ho fatta, ho vinto io, questo qua è Ableton, sono ufficialmente passato ad Ableton. Non sento più l'utilizzo di Ableton un limite rispetto a FL Studio, mi permette di essere creativo con un programma come sono con l'altro. E quindi posso dire ufficialmente di essere passato ad Ableton. Quali sono però effettivamente i motivi che mi hanno fatto passare ad Ableton e allo stesso tempo abbandonare FL Studio, ve li dico subito. Ciao a tutti e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federico, parlo di DJ, in questo caso di produzione musicale. Questo è il mio canale, se siete interessati ad altri video come questi vi consiglio di iscrivervi qui sotto, di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e lasciare assolutamente un commento fondamentale per questo video su che dove utilizzate e anche un piccolo commento storia, come ho fatto io adesso, su qual è la vostra storia insomma con le digital audio workstation. Altra cosa fondamentale, se invece volete imparare a mixare andate su 120academy.com, trovate DNA DJ o se volete imparare ad utilizzare il record box, lo standard per i club, potete acquistare 100% il record box. Ovviamente tenete anche d'occhio i nostri social in occasione del Black Friday di domani. Quali sono quindi i motivi che mi hanno fatto passare ad Ableton? In questo video vi dirò soltanto un po' di cose, quelle che mi sono venute in mente, quelle forse principali, ma poi ci sono un sacco di altre cose che si notano nel workflow quotidiano. Quindi piccole cose che però messe assieme fanno la differenza. Primissima cosa, l'ordine. Cosa intendo? Intendo dire che Ableton mi forza ad essere più ordinato. Quindi rispetto ad FL che è vero da sfogo alla mia creatività, ma nel giro di mezz'ora nello stesso progetto ho già fatto tanta confusione, con Ableton sono un po' forzato a tenere un po' di ordine. Non c'è la struttura playlist come c'è su FL, c'è una struttura mixer diciamo dell'arrangiamento e questo è molto comodo. Perché poi quando il progetto inizia ad essere un po' più complesso, neanche tantissimo, ripeto dopo mezz'ora di progetto già me ne accorgo, con Ableton riesco a tornare indietro, sistemare un po' le cose senza troppe fatiche. Che invece su FL se non partivo fin dall'inizio ad essere ordinato mi trovavo molto molto in confusione. Un po' in realtà come faceva anche Logic dal punto di vista dell'ordine sono molto simili. Secondo punto, affidabilità e leggerezza. Ora, sono sempre stato contro a chi critica tanto FL dicendo che non è affidabile, che crasha sempre e altre cose. Perché non è effettivamente così. Devo dire che però rispetto ad Ableton, Ableton è un po' più affidabile. È affidabile sia nei progetti in studio, quindi ovviamente mi è capitato qualche volta, devo ammettere su FL di fare un progetto, non salvarlo ogni volta e magari dopo un po' rendermi conto quando crasha che ho perso un po' di cose. Mentre su Ableton non mi sono onestamente mai capitati i problemi. Oltre a questo anche per la parte in live, che adesso vi dirò, nessun problema, filato sempre tutto quanto liscio. Questo fa la differenza appunto, specialmente nell'utilizzo in live. Con questo quindi andiamo al prossimo punto, utilizzo in live. Perché sono passato ad Ableton? Perché vorrei integrarlo con i miei set. Dal punto di vista della creatività penso sia il miglior strumento, come appunto Digital Audio Workstation, perché abbiamo anche la parte live. Molto interessante, quindi con lo stesso programma possiamo fare sia produzione, sia utilizzarlo in live, sia per suonare, sia per mixare. Insomma è uno strumento potentissimo da utilizzare in live, che invece con FL mi fermavo alla parte di produzione. Però poi se volevo fare qualcosa in live, mi serviva appunto Ableton Live. Altro punto, interfaccia. Ok, questo colore qua è brutto di Ableton. Mi sono abituato con questo. Faccio fatica a passare con un colore più scuro dell'interfaccia. Devo rimanere ormai con questa. Mi trovo bene. Che dire però, mi trovo veramente bene con l'interfaccia di Ableton. Adesso che l'ho capita un po' come funziona. Mi trovo bene a riordinare i miei plugin in varie categorie. Mi trovo bene a ritrovarmi tutto quanto sempre nella stessa interfaccia. Quindi avere semplicemente cose che si nascondono e si mostrano insomma nelle varie posizioni dell'interfaccia. Ma rimanere di base sempre con la stessa interfaccia. Cosa che in FL non è proprio così perché funziona un po' più a finestri in base a quello che ci serve. A volte è comodo, ma a volte è scomodo. Ultimo punto, ma non meno importante, è la connettività. Cosa intendo dire? Intendo dire sia la connettività con le schede audio. Abbiamo sia l'input che l'output. La compensazione in uscita. Ma anche la connettività lato MIDI. Quindi diversi dispositivi che ho provato con Ableton funzionano semplicemente meglio. Sono già mappati. Vi faccio un esempio. La mia Arturia che ho portato già sul canale funziona perfettamente con Ableton. Invece con FL non funziona. O almeno tutta la parte di integrazione con la Dove. Forse infatti uno dei primi approcci con Ableton l'avevo avuto proprio per questo motivo qua. Perché la mia Arturia non funzionava correttamente con FL. Quindi questi erano un po' dei motivi per la quale ho preferito Ableton rispetto a FL. Ora, è tutto oro quel che luccica? Assolutamente no. Ci sono un sacco di cose che mi mancano di FL Studio. Ci sono cose che non sono proprio presenti. Ad esempio su FL adesso è stata integrata la suddivisione delle tracce in stems. Quindi come i software per mixare carichiamo un pezzo e estraiamo gli stems in maniera molto semplice. E con una qualità veramente interessante. Questa cosa non c'è in Ableton ad esempio. E anche altre cose. In generale il piano roll penso che sia ancora più intuitivo su FL. E altre cose ancora. Quindi non è tutto quanto perfetto. Attualmente mi sto trovando meglio con Ableton. Tutto qua. Questo per dire che non escludo il fatto che tra 6 mesi, 2 mesi, 3 anni, 10 anni insomma quello che sarà. Farò un video aggiornamento dicendo torno in FL Studio. Come sono già passato da FL a Logic, da Logic a FL e adesso ad Ableton. Non potrebbe essere che cambio. Non so vado in Pro Tools, Reaper, Studio One, quello che è insomma. Per il video di oggi era tutto. Quindi fatemi sapere con un commento, ripeto qui sotto, qual è l'adoo che utilizzate. Perché, quali sono le vostre storie con l'adoo. Cosa avete provato, cosa non vi è piaciuto. E niente. Noi ci vediamo molto molto presto con un nuovissimo altro video. Qui da Federico è tutto. Ciao. 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 Ciao.